Rita Severino, la festa, gli ambiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriannale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili, come con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Grazie a tutti. Buonasera ai telespettatori di Telemia. Come ogni settimana ci occupiamo di una problematica della Piana di Gioia Tauro. Negli studi di Approdonews abbiamo il responsabile, il presidente dell'associazione politico-culturale, nonché movimento politico perché alle scorse elezioni comunali di Cittanova si è presentato con una sua lista, Domenico Fonti che già conosciamo. Ci occupiamo di alcune vicende di attualità di Cittanova, potremmo chiamarla Cittanova oggi. Partiamo dall'ultima novità, un consiglio comunale aperto che si è tenuto a Cittanova l'altro ieri su un'emergenza, emergenza sicurezza. Ci sono state due rapine nel comune pianigiano, una tabaccheria, una gioielleria, una microcriminalità in questo caso che alza la testa. Un consiglio comunale aperto dove come movimento penso avete partecipato al dibattito. è servito a qualcosa? Intanto ringrazio delle mie e delle spettatori per seguire questa trasmissione e vi ringrazio per l'invito. Noi abbiamo partecipato a questo consiglio comunale aperto, esprimendo piena solidarietà come giusto alle vittime di questi episodi di microcriminalità. Abbiamo partecipato con la volontà di voler mettere da parte la polemica politica anche per rispetto alle vittime presenti in questo consiglio comunale aperto. Ci sembra strano, l'ha fatto anche l'opposizione per dire il vero, quindi non è da parte mia voler criticare a 360 gradi, l'opposizione ha anche chiesto all'amministrazione, al sindaco, al presidente del consiglio di poter mettere a verbale il consiglio comunale aperto. Loro hanno risposto che per una questione di regole statutarie non è possibile farlo. Io penso che un indirizzo comunque in un consiglio comunale aperto l'amministrazione, il consiglio comunale stesso avrebbe dovuto prenderlo. Ma sulla questione sicurezza un'amministrazione comunale cosa può fare come azioni politiche? Lo abbiamo detto anche noi, le proposte sono quelle che si possono fare, il poliziotto di prossimità, ma poliziotto di prossimità vuol dire chiedere al Ministero dell'Interno di aumentare le unità di forze dell'ordine presenti sul nostro comune. Si può partire dall'aspetto culturale, anche il segretario del PD lo ha detto, che in passato c'è stata quando è nata l'associazione Anti-Racket una grande manifestazione di risposta alla criminalità organizzata con 41 associazioni che avevano aderito. Le attività associative che si portano avanti a Cittanova, cito alcune, tradizionando l'associazione Colomena che fa teatro, l'Aido, l'Avis, quelle associazioni che vivono la vita sociale di Cittanova e che andrebbero ancora maggiormente sostenute. Ma non è soltanto il teatro, non è soltanto la manifestazione, è anche quello che noi abbiamo proposto poi, creare un percorso culturale e che ha ricordato anche l'amica avvocatessa Mirella Sicari, un percorso culturale per dare alle nuove generazioni una coscienza civica, perché la criminalità non possa attecchire nel nostro territorio, altrimenti poi restano, come purtroppo accade in questi momenti, soltanto delle parole e delle parate. Voglio fare un inciso ad una consigliera comunale che ad un mio intervento ha preso soltanto un aspetto per fare polemica. La consigliera comunale Foci dice che Domenico Fonti non chiede le dimissioni all'amministrazione, invece lei le ha chieste. Prendo atto che il consigliere Foci, la consigliera Foci, abbia atteso questo consiglio comunale per fare un comizio, per assumere delle posizioni che Giandare oltre aveva preso a tempo debito, mentre lei invece è stata in silenzio. Magari non gli piace scrivere manifesti come ha detto la stessa consigliere comunale, ma l'azione politica di Sollevante per Città Nova Libera, io con difficoltà riesco a rintracciarle in consiglio comunale, perché sembra proprio che vada a traino di quella che è l'opposizione di Cannatale. Scusa se ti interrompo, voi avete chiesto le dimissioni dell'amministrazione non in questo caso, forse in precedenza. No, io ho sempre avuto una posizione politica, dicendo che la politica è fatta da due momenti, il momento elettorale dove i cittadini decidono chi deve amministrare, chi deve fare l'opposizione, e il momento politico dove un'amministrazione ha il diritto, dovere di governare una città, che lo faccia bene o lo faccia male, ha cinque anni di tempo, una partita di pallone dura 90 minuti, non possiamo sospendere una partita il primo quarto d'ora perché una squadra gioca male. quindi il consigliere Foci, che oggi riscopre il consiglio comunale partecipato, dopo aver criticato quello sulle unioni civili che il sindaco ci aveva concesso, ed era un argomento importante che si trattava, soprattutto chi candidato a sindaco ha dovuto avere la sensibilità di confrontarsi, e noi diciamo alla consigliera Foci, alla quale va la mia stima personale, stima politica, che molte volte la polemica non deve cedere nella strumentalità. Noi attendiamo la fine naturale di questa amministrazione, poi saranno i cittadini a decidere se o meno dare a questa amministrazione la possibilità di proseguire nel proprio mandato politico-amministrativo. Io ho i miei dubbi che lo facciano, ma molto dipende anche dalle risposte che la politica riesce a dare come alternativa. Tornando al tema principale, cioè quello di apertura, quindi è servito il consiglio comunale aperto alla cittadinanza, alle associazioni? Ma in buona sostanza è servito per dare solidarietà, ripeto, a queste persone. E io, diciamo, ho sottolineato che un'amministrazione può fare ben poco di fronte a una rapina. Qualsiasi attività noi vogliamo fare. Noi abbiamo parlato di criminalità, microcriminalità, in questo Consiglio Comune all'Aperto. Io mi sono attenuto a quello che era l'argomento principale, ma avrei voluto spostare anche l'argomento sulla criminalità. Invece abbiamo dovuto limitare il nostro intervento, perché l'amministrazione, diciamo, ha voluto forse in modo sapiente limitarsi, visto i fatti che sono accaduti nei mesi scorsi e che vedo coinvolto anche un consigliere di maggioranza, e qui, ripeto, prevale la presunzione di innocenza, ha voluto limitarsi ai fatti, diciamo, di microcriminalità. Forse ci dovrebbe essere un Consiglio Comunale aperto sulla legalità. Allora, sulla legalità, io dico che, e ribadisco il concetto che ho espresso in Consiglio Comune all'Aperto di qualche giorno fa, dicendo che più che la legalità ci vuole l'onestà nella legalità, perché la legalità è soggetta alle leggi, le leggi che si danno agli uomini, e gli uomini, diciamo, ciò che oggi è legale può diventare legale domani mattina, e ciò che era illegale ieri può diventare... Quindi, viceversa. Allora, andiamo, visto che abbiamo aperto con una novità, diciamo, con l'attualità di quanto sta accadendo a Città Nova, un altro elemento di novità e di, diciamo, fatto divampare una polemica all'interno delle forze politiche è stata un'azione che ha fatto l'Aggiunta Comunale di Città Nova assumendo quattro lavoratori a tempo determinato nei propri uffici attraverso un'agenzia di lavoro, una volta veniva chiamata agenzia interinale, che ha fatto da intermediario, il Comune ha chiesto a questa agenzia di selezionare delle persone e l'agenzia li ha dirottati verso gli uffici del Comune. Quindi, diciamo, una triangolazione. Lo scandalo dove sta? E sta nel fatto che il bando, questo bando, questa richiesta non è stata resa pubblica e soltanto pochi fortunati sono riusciti ad avere la possibilità di partecipare inserendo il proprio curriculum a questa agenzia. Il caso, bisogna per onestà, diciamo, dei fatti, è stato sollevato dall'opposizione presente in Consiglio Comunale, perché se no non staremmo qui a parlare anche perché la cosa è andata in sordina, quindi merito all'opposizione che in qualche modo, in questo caso, ha sollevato il caso. Qualche volta sono vicini. Voi avete pubblicato un comunicato, una nota stampa in cui avete criticato aspramente questa azione. Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? L'abbiamo detto, ma cosa si nasconde dietro questa azione? Ma io non voglio pensare male che si possa nascondere qualcosa, anche perché altrimenti dovrebbero venire dei dubbi sul perché l'opposizione ha, diciamo, attenzionato la questione, visto anche alcune figure specializzate che sembra siano state non assunte perché c'è differenza tra assunzione e somministrazione di lavoro. La differenza sta che la somministrazione di lavoro viene vista come una risposta alla precarietà del lavoro, ma questo è quello che dice l'Unione Europea, quello che mi domando io, si domanda anche andare oltre, come può un lavoro a progetto risolvere la precarietà lavorativa. Io penso che è un tecnicismo burocratico. No, ma in politica è importante ribadirlo se noi facciamo politica, perché altrimenti rischiamo di fare... Sì, ma sono disquisismi... Sì, sì, ma rischiamo di fare degli interventi strumentali che credo nel rispetto dei cittadini non andrebbero neanche fatti. Quindi si tratta comunque di progetti di lavoro. Non è che chi viene, diciamo, assunto a tempo determinato, quindi c'è una scadenza, risolve problemi di una vita. Non è che chi viene assunto a tempo determinato domani continuerà a lavorare, perché ci sarà poi, la legge lo prevede e lo dice, che per le amministrazioni pubbliche deve essere rispettato il merito e la trasparenza. Quindi dovranno esserci concorsi pubblici alle quali dovranno partecipare, delle selezioni alle quali questi impiegati dovranno partecipare per poter ricorrere, diciamo, all'assunzione. Ma non vorrei che ci fosse la presa in giro, tutto questo. Infatti voi, a proposito di Beffa, di presa in giro, io ho letto la vostra nota stampa, voi avete sollevato un punto interrogativo. Sì, noi abbiamo sollevato più di un punto interrogativo. Perché intanto non credo che i cittadini debbano stare dietro la porta dell'amministrazione comunale e origliare, una volta, anticamente lo faceva un consigliere comunale di maggioranza, si metteva lì e origliava dietro le porte quando c'era la vecchia amministrazione Morano. Oggi non credo che con l'amministrazione di continuità della stessa colore politico di Morano i cittadini debbano mettersi dietro le porte dell'amministrazione e origliare se ci sono delle novità occupazionali o lavorative. Io non voglio polemizzare, come ha fatto anche il capo dell'opposizione in Consiglio Comunale, a cui va il merito di aver portato alla luce questa questione, altrimenti nessuno l'avrebbe mai saputo. Ma noi crediamo che ci sia il dovere della pubblica amministrazione di informare i cittadini, informare i cittadini su quelle che sono le opportunità, ecco perché parlo nell'articolo di pari opportunità, che sono poi diritti e doveri. Qui l'amministrazione invece ha gestito la cosa tutta al chiuso e vorrei dire per pochi intimi e questo non va bene. Questa è stata la questione da voi sollevata. Un'altra questione che voi avete sollevata... Anche perché, voglio dire, sempre rimanendo su questo tema delle assunzioni, per quanto riguarda alcune categorie specializzate, noi abbiamo dato un consiglio al sindaco, non abbiamo mai additato nessuno e mai abbiamo preso le manette in mano e chiesto a qualcuno che potesse pagare o andare in galera. Abbiamo soltanto fatto presente, consigliato che così come queste assunzioni a tempo determinato non vanno, ma io lo dico anche nell'interesse nel rispetto di chi ha usufruito di questa assunzione a tempo determinato perché rischiano di essere visti come i privilegiati della città di Cittanova, quando invece non lo saranno perché saranno ottimi professionisti e persone che sfruttano le opportunità che la politica dà, quindi è la politica di essere intorto, non che beneficio di queste opzioni di assunzione a tempo determinato, come anche per quanto riguarda, lo potremmo dire, per legare d'appalto. Non è tanto l'imprenditore che sbaglia, è la politica. Io su questo voglio essere chiaro una volta per tutte. Quindi noi non chiediamo né la condanna né l'arresto di nessuno, chiediamo al sindaco di assumersi una responsabilità e di porre rimedio a questa questione. Sicuramente l'avrò fatto per il bene dei cittadini, non dico di no, ma bisogna seguire delle regole ed essere trasparenti. Questo vuol dire essere trasparenti. Altro fatto che l'opposizione diceva e nel suo manifesto e che penso che sia un tantino più strumentale di quanto non potrebbe esserlo è il fatto che siano stati mandati a casa 15 dipendenti e che quindi questi 15 dipendenti avrebbero dovuto essere assunti. Non è così. Il capo dell'opposizione sa bene, anche perché penso che come area politica sia vicino all'area di governo Renzi per quanto riguarda il gruppo Alfano Casini, sa bene che la legge sulla spending review proposta da questo governo impone alle amministrazioni di mandare in licenziamento o in prepensionamento i dipendenti del comune. Siccome Cittanova ha una particolarità, io l'ho sempre detto, le amministrazioni sembra che non se ne siano mai accorte, si guarda a bel parlare di proponenti politici, ma l'amministrazione di Cittanova ha una particolarità. Noi abbiamo un esubero di personale e una carenza di personale all'interno e queste cose vogliamo dargli un nome. Le ha create l'amministrazione Morano, non le ha create il sottoscritto, non le ha create sicuramente, immagino forse Cannatà, non le ha create neanche l'amministrazione Cosentino, perché purtroppo c'è stato un avanzamento di carriera per alcuni settori, persone rispettabilissime. Io dico la colpa è della politica, in questo caso di Morano, dell'ex sindaco Morano, che ancora oggi viene visto come il re soli. A mio modo di parere anche quell'amministrazione ha avuto molte ombre e non tante luci. Quindi nel manifesto si dicevano che questi 15 prevenzionamenti li ha di... Ma non le può, l'amministrazione non può assumere 15 che escono con 15 che entrano perché la legge sulla spending review lo vieta. Bisognerebbe, noi l'abbiamo detto all'inizio di questa campagna elettorale, e con la consigliera Foggi voglio dire, noi siamo responsabili perché siamo attenti e vigili a come si amministra la nostra città. quindi io mi sarei aspettato che dall'opposizione come ha fatto nel manifesto ora il capo dell'opposizione in consiglio comunale l'ex sindaco che ho chiamato sindaco in seconda così per battuta perché si firma sindaco ancora oggi avrebbe dovuto invece improntare la discussione su quello che noi precedentemente avevamo detto l'opposizione arriva in ritardo il ritardo proprio indiscutibile c'è una pianta organica da riorganizzare da rivedere da risistemare e anche per il bene dell'amministrazione sarebbe caso che quella proposta che andare oltre fece in campagna elettorale che io feci in comizio venisse presa in considerazione dall'amministrazione fare ruotare i dirigenti soprattutto in quelli che sono i settori sensibili e anche qui un'altra chicca al nostro caro sindaco di Cittanova vorrei dire consigli partecipati vanno bene ma che abbiano un senso che diano un senso alle discussioni politiche noi abbiamo chiesto il consiglio partecipato e il bilancio partecipato questo ancora non è venuto il bilancio si è discusso diciamo nel chiuso di una stanza magari perché era meglio nascondere diciamo fatti pregressi di un bilancio che è stato diciamo risanato tra virgolette ma che purtroppo ancora ci trasciniamo dietro un'eredità pesante che viene dal passato si 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 soltanto una precisazione non vorrei dire una stupidaggine ma su quattro persone che escono negli enti locali ne devono essere assunti uno su quattro uno mi sembra questa è la media che prevede la legge di spendere voglio fare una battuta e passatemi una battuta il settore tecnico l'ufficio tecnico che ho visto andare in pensione già il suo una figura specializzata che ha diretto l'ufficio tecnico adesso dovranno andarne via altre due quindi ci sarà carenza e dovrà esserci un'assunzione sempre con bando ecco dove sta la difficoltà queste persone che sono state assunte a tempo determinato sicuramente con dei ruoli che non sono di fascia o di categoria dirigenziale va bene possono firmare questo io mi domando atti della pubblica amministrazione e quindi rallentare diciamo l'attività amministrativa perché oggi vado al comune mi firmano un atto per quell'atto non è buono perché chi lo doveva firmare non ha le competenze perché non è un impiegato a tempo indeterminato e quindi non ha ruoli in pensioni specifiche quindi io mi vedo mi vedo poi il cittadino mi vedo purtroppo dover andare a risolvere una questione per una firma perché non sappiamo se queste persone possono firmare o meno e anche anche su questo ogni 4 o 1 c'è adesso c'è diciamo la corsa per gli incarichi all'interno dell'ufficio tecnico è una questione che dovrebbe essere affrontata ecco non è una battuta non è una polemica non vorrei che il tipo di manifesto dell'opposizione fosse un richiamo all'amministrazione per dire vedi che noi siamo sul piede di guerra sull'ufficio tecnico se le cose non vanno come vanno noi ne facciamo una questione di trasparenza e di etica l'opposizione mi auguro e sono convinto lo faccio pure così lo voglia fare per richiamare la poca trasparenza che l'amministrazione ha dimostrato in questo atto poi c'è una sentenza anche un'amministrazione che non ama i propri dirigenti è un'amministrazione folle come io lo dissi ai tempi quando un ex amministratore mi minacciò di quera era e io poi mi presentai agli uffici pubblici proprio dal dirigente e dagli impiegati dicendo guardate che io ho la richiesta di archiviazione e l'archivio ma non perché non voglio andare avanti perché diciamo cosa è questa polemica con il dirigente poi passiamo ad altro ma la polemica con il dirigente non è una polemica noi abbiamo fatto notare all'amministrazione che purtroppo per la Bassanini la legge Bassanini e qualsiasi decisione politica ci sia purtroppo non non ne risponde più non ne risponde più non ne risponde il politico ma ne risponde direttamente il dirigente e guarda caso proprio sulla somministrazione a tempo determinato c'è una sentenza chiara che condanno un dirigente e io qui a scanso di qui ci voglio dire sarò a fianco dei dirigenti che sicuramente in buona fede avranno firmato questa convenzione non perché la convenzione con l'agenzia del lavoro sia illegale è legale però la legge prevede che un'amministrazione comunale se ha dei lavoratori socialmente utili nel proprio organico deve prima di tutto diciamo sistemare i lavoratori socialmente utili e poi casomai in mancanza di figure in carenze di personale andare fuori e chiedere alle agenzie interenali di intervenire ma per quanto riguarda poi gli uffici tecnici non si può far entrare con somministrazione lavoro un indipendente apparentemente in una categoria e poi spostarla in un'altra più specializzata perché là poi veramente oltre che esserci una questione di poca etica rientra anche un fatto di poca trasparenza perché per alcune mansioni soprattutto specializzate bisogna poi fare dei concorsi pubblici e questo è l'abc della politica poi se la politica cambia con Renzi sta cambiando tutto noi seguiremo la legge ma questo è un fatto di un principio etico e di onestà soprattutto quindi è su questo che noi abbiamo concentrato la nostra azione in quel manifesto non puntando l'indice contro nessuno ma dicendo al sindaco così le cose non vanno bene andiamo su un'altra polemica perché il tempo galoppa voi avevate lanciato una proposta al sindaco di Cittanova su una questione molto delicata e particolare che interessa non solo Cittanova ma l'intera regione Calabria e forse l'intera Italia in questo caso avete chiesto al sindaco che dasse la possibilità di pubblicare tutti quei nomi quelle persone che sono iscritte alla massoneria il sindaco doveva rivolgersi al prefetto e il prefetto doveva consegnare i nomi questo penso che sia la richiesta sono passati dei mesi sono passate delle settimane dei mesi forse troppo eccessivo avete avuto risposta su questa vostra provocazione possiamo chiamarla provocazione o proposta ma io ecco voglio 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 spezzare una lancia anche a favore della consigliere Luisa Foggi perché non sono una persona che fa polemica e non sono una persona che usa il personalismo in politica riconosco torti e ragioni in questo caso voglio dire al sindaco che l'altra sera nel consiglio comunale aperto ho preso atto che la nostra richiesta non è stata inviata come avrebbe dovuto essere ai capigruppo di opposizione quindi anche alla consigliere Luisa Foggi che la ringrazio perché ci ha fatto capire del perché anche l'opposizione in questo caso è tace e quindi mi farò io personalmente carico di consegnarlo ai capigruppo di opposizione per affrontare insieme questa situazione politica che richiama il dovere e il principio di trasparenza nella pubblica amministrazione anche qui noi non vogliamo puntare l'indice contro nessuno a me i massoni non fanno paura non condivido quella cultura diciamo piramidale che si vuole dare alla società io penso che dobbiamo essere una società libera e quindi per essere liberi dobbiamo avere la possibilità di confrontarci in spazi aperti luoghi pubblici e sotto la luce del sole non sotto l'illuminazione del sole quindi io ancora il sindaco non ci ha dato risposta ancora siamo nei tempi capisco che il sindaco può essere obberato e impegnato oggi a risolvere tante situazioni e questioni interne della maggioranza e per quanto riguarda anche la pubblica amministrazione anche lì diciamo sarà impegnato a sistemare diciamo le telecamere visto che non funzionano e l'altra sera si è nervosito anche perché glielo abbiamo ricordato che non funzionassero le telecamere per poter arginare quella che la microcriminalità cittanova diciamo dare un servizio ai cittadini ecco sicuramente tutti questi piccoli impegni di quotidianità politica lo portano a non trovare il tempo di rispondere io sono fiducioso che prima o poi lo farà dovrà dirci che lui vuole chiedere o inviare i nominativi dei candidati e degli eletti in consiglio comunale anche perché al prefetto per capire se ci sono iscritti alla massoneria perché oggi a quanto sembra delle ultime vicende da quella dichiarazione che fece di Bernardo al procuratore della Repubblica dicendo che il COI è l'ex gran maestro del GOI dove parlava di infiltrazioni oggi sembra che quelle dichiarazioni stiano venendo fuori veritieri perché non c'è più una massoneria parallela e deviata ma ci sono proprio la massoneria il GOI che utilizza diciamo la criminalità per poter portare avanti i propri scopi e i propri interessi noi lo vediamo anche su ecco lo vediamo come impoverisce la massoneria il nostro territorio lo vediamo con il porto di Gioia Tauro cosa sta portando cosa ha portato non ha portato niente io l'ho detto anche all'amministratore delegato del porto di Gioia Tauro al presidente dell'autorità portuale ha detto questo porto a cosa serve al nostro territorio se non riesce ad andare oltre i 2000 posti di lavoro che questo porto può dare abbiamo avuto un consigliere regionale che ha sbandierato che veniva una fabbrica per la costruzione delle auto sembriamo negli anni 60 quando doveva esserci l'insediamento siderurgico a Gioia Tauro cioè promesse questa regione sta dimostrando di camminare proprio a rilento peggio di come si camminava nel passato cioè stiamo arrivando proprio al buffo della politica regionale cioè qui abbiamo non metto in dubbio che i consiglieri regionali si prestino per il proprio territorio però poi nel concreto ancora ad oggi ci sono tante chiacchiere e le parole stanno a zero quindi aspettate questa questa risposta e questi nomi ci sono ci sono delle allora ci sono intanto delle dichiarazioni pesanti su 32 loggie mi sembra 29 della regione o della provincia sono fortemente inquinate oggi scopriamo che non soltanto c'è una massoneria deviata e quindi una politica deviata ma direttamente sembra che ci sia il GOI che gestisce tutti questi rapporti deviati che allontanano la politica dei cittadini e portano la politica diciamo a gestire interessi che a volte vanno contro i cittadini stessi quindi noi difendiamo il dovere il diritto della sovranità popolare e a proposito di questo visto che molti sostengono che la riforma voluta da Renzi riforma costituzionale si voterà il 4 dicembre voi siete promotori di un comitato del no a Cittanova dietro ci siano i grandi potentati finanziari che hanno dato il via libera questa non lo sostengo io ma alcuni osservatori politici e analisti del settore sostengono che ci sia stato il beneplacito dei grandi potentati finanziari molti dicono anche di una banca d'affari americana la JP Morgan che abbia quasi diciamo suggerito a Renzi di fare questa riforma a parte questo voi siete siete membri di questo comitato del no farete una manifestazione penso a breve sul referendum vi siete schierati per il no di cosa si tratta quando la farete chi sono gli ospiti noi non siamo per il no perché siamo contro Renzi il 4 dicembre si vota si non siamo per il no perché siamo contro Renzi quindi noi sfiduciamo Renzi quindi se la FOCI vuole far parte di questo comitato può farlo ed è accolta a braccia aperte lo facciamo dando un senso a quello che è il risultato di quello che è la discussione sulla riforma costituzionale io la mia storia politica proviene da destra e quindi anche ai tempi mi sembra che un piccolo partito che ha fatto una grande storia ponesse dei principi e delle motivazioni di necessità di riformare la costituzione anche perché era stata ed è stata concepita diciamo male non è stata concepita nell'interità dell'unità nazionale perché noi diciamo di no beh intanto noi abbiamo una costituzione che lascia tutto come mi sembra che la proposta che la destra è sempre fatto e rivendico il discorso della destra credo che porti verso intanto una repubblica presidenziale e questo mi sembra non sia argomento e oggetto di riforma di questa costituzione quindi resta diciamo un impianto governativo come la forma di governo resta parlamentare la forma di governo viene abolito ma che è giusto il presidenzialismo è bene dirlo non elimina al Parlamento la possibilità di potersi confrontare sul tema abolizione della del senato beh noi 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 abbiamo una storia il senato della repubblica romana quindi voglio dire dovremmo andarci con i piedi di piomo specifichiamo che non è l'abolizione del senato ma viene rivisitato ci stavo arrivando noi siamo sempre stati d'accordo a superare il bicameralismo perfetto voluto da Massimo D'Alema che oggi vota no quindi anche questo dovrebbe fare riflettere i tanti elettori di centro e sinistra a fare un fronte popolare comune perché dico questo perché anche il senato diciamo va visto in una sua forma se lo si vuole lasciare di rapporto territorio governo e allora bisognerebbe eliminare la conferenza Stato-Regioni che senso ha lasciare la conferenza Stato-Regioni questo me lo deve spiegare Renzi e Renziani presenti sul territorio dove si trattano i problemi delle regioni e dei governi e poi un senato che sarà la fotocopia della conferenza Stato-Regioni iniziamo a fare ordine Renzi inizia a fare ordine su questo sulla rapidità delle leggi ma quando si debbano aumentare gli stipendi parlamentari e senatori mi sembra che non ci sia tutto questo meccanismo ferraginoso questa lentezza burocratica la legge si fa subito e quando si bisogna fare le leggi a favore dei cittadini che la legge va a rilento quindi è inutile dire buffonate dal punto di vista politico come sta facendo oggi il governo Renzi allora la lentezza burocratica la lentezza politica la lentezza della azione politica non è data dal passaggio da senato alla camera dei deputati e viceversa ma è data proprio dalla svogliatezza della politica di dare delle risposte perché dove la politica deve dare le risposte a se stessa là c'è una velocità supersonica quindi queste sono fesserie eliminare e superare il contrasto Stato-Regioni questa riforma è spiegata male l'ha spiegata male Renzi Renzi è partito con un referendum pro Renzi per arrivare poi nel momento di paura e dire ah beh se la riforma costituzionale dovesse essere schiacciata dalla vittoria del no dice non era un referendum su me stesso va bene quindi qui voglio fare la battuta alla simpatica amica e consigliere Foci dico non possiamo neanche sfiduciare un presidente del consiglio perché non l'abbiamo eletto allora vogliamo discutere di questa riforma noi promuoveremo proprio un dibattito e inviteremo le forze politiche e questo dibattito non sarà una vetrina ad andare oltre se sarei il caso non parlerò neanche io va bene perché voglio che a Cittanova e lo sta facendo anche l'amico Nuccio Carrara in giro per spiegare quale sono i punti di debolezza di questa riforma costituzionale non perché debba vincere il no perché anche nelle regioni sì ci possono essere delle motivazioni interessanti ma non può essere impostata così si vota no perché la riforma è proposta in maniera sbagliata non si vota no perché si è contro la riforma della Costituzione si vota contro una schifezza e una porcheria di riforma costituzionale che ci viene proposta e questo è importante che i cittadini vadano a votare e che si riapra l'indomani le forze politiche riaprono nuovamente le discussioni qua c'è diciamo un tentativo di eliminare il voto diretto dei cittadini la sovranità popolare lo hanno fatto con le città metropolitane dove abbiamo visto quello che è successo territori che non vengono come città nuova rappresentati perché ci sono accordi trasversali a livello politico e quindi si rimane fuori l'opposizione in consiglio comunale è rimasta fuori pure dalla competizione chissà per quale motivo e ragione e il nostro territorio città nuova rimane senza rappresentanza vogliamo che la Calabria rimanga ulteriormente ancora senza rappresentanza dicono vengono eletti i consiglieri regionali però quando a me consigliere regionale mi vota un'assise regionale dei parlamentari dei gruppi come hai detto tu che sono all'atere della politica e decidono che io devo andare in senato di chi farò gli interessi a chi darò le mie risposte a chi dovrò rispondere a chi a chi mi nomina in consiglio in consiglio regionale e qui ci stiamo vedendo troppi grandi fratelli e troppi i seri dei famosi per poter ridefinire una costituzione come il rapporto tra politica a novembre farete questa manifestazione però stiamo proprio sui punti finale perché manca poco tempo un altro punto che voi avete criticato questa volta sia la maggioranza che l'opposizione è la sulla problematica degli incarichi ritorniamo a Cittanova diciamo le problematiche del di cosa si tratta di questa polemica però è un po' stringato perché siamo diciamo che sulla questione della iscrizione nel registro degli indagati di un consigliere di maggioranza quale noi avevamo chiesto al sindaco le questo caso si avevamo ragione siamo stati molto più tempestivi dell'amica Foci a chiedere le dimissioni del foci ormai gli voglio bene del 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 sindaco e del consigliere comunale nell'occhio del ciclone in andare oltre sono emerse diciamo due posizioni quelle fuori delle dimissioni chi era fuori dell'autosospensione era fuori di un'autosospensione cautelativa e proprio per non destare la possibilità di voler fare polemico strumentalizzare sull'argomento poi sarà la magistratura che farà il suo corso e noi siamo fiduciosi nella magistratura sugli incarichi che cosa è questa polemica sugli incarichi diciamo l'opposizione ha risposto diciamo a quel nostro manifesto per far vedere che forse diceva qualcosa all'amministrazione comunale che in ritardo si è riconosciuta a parte civile nel processo alchimia che il ritardo ha detto qualcosa senza dire nulla girandoci attorno e dicendo che anche lì una bestialità dicendo che anziché chiudersi nel palazzo e addomesticare le persone sicuramente era riferito alla opposizione come ha detto l'altro giorno il sindaco e loro diciamo vogliono confrontarsi con i cittadini non si addomestica nessuno i cittadini non sono animali e per gli animali ci sono delle leggi anche che li tutelano quindi su questo aspetto invitiamo la politica ad essere molto più cauta noi abbiamo risposto lì perché sembra che l'asino dia del cornuto al bue o che il bue dia del cornuto all'asino nel senso che nel pieno rispetto poi delle persone che fanno parte di maggioranza di opposizione l'opposizione ha criticato degli incarichi diretti che l'amministrazione pare abbia dato a persone prossime alla propria formazione politica ma questo modo di fare c'è stato anche in passato ne ho citato a qualcuno basta vedere gli incarichi diretti per l'affidamento dei lavori del polo della legalità dove là non c'è stato neanche un disciplinare d'appalto lì non abbiamo avuto mai risposte soltanto stranamente il presidente o il componente dell'associazione anti-racket che mi ha detto ma tu hai attaccato il polo io non ho attaccato il polo io ho attaccato un metodo sbagliato dell'affidamento di incarico anzi mi sarei aspettato che l'amico Molina mi dicesse su questo ha avuto ragione e che diciamo portasse avanti la mia azione politica di trasparenza abbiamo citato anche qualche altro lavoro ad esempio il palazzetto dello sport io gioco legale ha avuto con i ponti di sicurezza anche qui l'amministrazione Cannatà nell'ottica dei lavori pubblici non è che ha dato tanto anche perché per quanto riguarda il cinema ha ereditato dei lavori e dei progetti che già erano in fase di tinere ma è giusto che la politica porti avanti dei lavori utili per una comunità anche lì abbiamo visto per quanto riguarda il palazzetto dello sport degli affidamenti di incarico diretto ma perché la legge lo consente lo prevede poi sta nella sensibilità etica e morale dei politici fare diversamente qualche altro lavoro che stava partendo sotto l'amministrazione Cannatà e non è partito perché diciamo c'è stato un errore di valutazione del progetto era gli impianti sportivi di località Torre anche lì si vuole dare la responsabilità all'amministrazione ma l'amministrazione attuale non ha nessuna responsabilità visto che quel progetto diciamo non era idoneo ed esatto per quello che riguardava l'area pubblica ad utilizzare ai fini di quel progetto anche lì anche in carico diretto nulla di personale nei confronti di validi professionisti e di imprenditori che lavorano diciamo alla realizzazione di opere pubbliche importanti e necessarie di città nuova sul cinema abbiamo visto una rotazione di progettisti un'impresa che è andata via da Napoli c'è una gestione diciamo dove quindi una critica che voi girate all'opposizione certo perché sembra che chi ha scritto il manifesto di critica all'attuale amministrazione ha avuto ragione a scriverlo perché l'amministrazione è ferma l'unica novità sono i quattro posti di lavoro a tempo determinato diciamo che loro sono riusciti a fare o altre diciamo situazioni diciamo di incarico diretto o affidamento diretto degli incarichi che viene dato come la gestione del teatro o altro che l'opposizione fa bene a ricordare beh anche lì sembra che il capo dell'opposizione sia guardato allo specchio io lo ripeto lo ribadisco noi abbiamo assunto un'opposizione politica chiara nel 2014 questo non vuol dire che si interrompi un dialogo con una parte politica a noi a fine o vicina ma tutta questa umiltà di poter dire riconosco degli errori discutiamo per cercare di capire se ho sbagliato io o aveva torto andare oltre ad assumere determinate posizioni non la vedo per questo penso sia difficile oggi come oggi un colloquio anche con l'opposizione io auguro che non sia così se avrà la sensibilità di sedersi ad un tavolo e aprire un ragionamento senza chiudersi ma noi abbiamo risposto anche al capo dell'opposizione il quale nel suo manifesto disse che lui è garantista per quanto riguarda la cauta va bene argomentazione del fatto di cronaca di Cittanova che interessa in modo indiretto la politica cittanovese e con questo non voglio dire che ci siano gli estremi per un commissariamento per per Cittanova una commissione d'accesso perché tranne diciamo fatti politici come questa delibera e determina sull'assunzione a tempo determinato diciamo fatti gravi non credo ce ne siano c'è un coinvolgimento indiretto di alcuni esponenti della maggioranza anzi di un esponente della maggioranza lì il sindaco non ha detto nulla anzi l'altra sera ha detto ho fiducia della magistratura io mi sarei atteso invece una posizione politica chiara e trasparente nei confronti dei cittadini questo hanno ritenuto non farlo ma visto che il capo dell'opposizione disse che etica e moralità lo ha scritto lo ha detto a me anche personalmente non vanno di pari passo beh io qui sottolineo un profondo solcro tra la mia cultura politica che ha una chiara provenienza da destra e la sua provenienza politica nel volersi dire antisinistra e di centrodestra e non è così ma lasciando fare andiamo a chiudere perché si lasciando 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 fuori da questi argomenti ormai credo che bisogna confrontarsi su temi di ordine di principi e di valori etica l'etica non è altro che la sintesi di tutte le moralità chi distingue l'etica dalla morale ha innanzitutto una visione filosofica diversa da quella che è la filosofia tradizionale ma sicuramente distante da quella che è la mia cultura politica io ringrazio l'esponente del movimento politico associazione culturale andare oltre grazie a voi di essere venuto di aver toccato delle tematiche anche un po' scottanti di un paese limitrofo e importante della Piana di Gioia Tauro città nuova mentre con me ci vediamo la prossima settimana buona serata di Gioia Tauro Rita Severino la festa gli ambiti il tempo libero lo sport sportiva elegante trend raffinata a volte complicata ed a volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre esperienza pluriannale nel settore con cortesia e competenza Rita Severino abbigliamento via tenente carella roccella ionica grandi firme uomo e donna se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili come con Reat ADSL a soli 15 euro al mese navighi senza limiti di tempo senza limiti di traffico per sempre allora cosa aspetti contattaci al numero 338 22 78 144 34 3 4 4 4 4 5 5 4 5 6 6 10 11